Allora, Manuel Coscione, sicuramente tra i migliori questa sera, partita equilibrata, poi che cosa è cambiato sul finire di sette? Partita molto difficile, molto complicata come sono tutte le partite, ci è callato un po' il servizio nel secondo del terzo set, quindi abbiamo subito il loro gioco, il quarto secondo me siamo venuti fuori un po' di grinta, un po' di nervoso, un po' di orgoglio e questo ci ha dato poi la carica per il quinto, che abbiamo giocato un bel set di alto livello, quindi secondo me due punti meritati. Una metà morfosi positiva, tre sconfitte iniziali e poi tre vittorie, la sospirata cambio di marcia? Sì, non è facile perché nel campionato il livello è molto alto e insomma sono tutte squadre quelle contro cui abbiamo giocato ultimamente che sono diciamo del nostro livello, quindi è normale che ci sia equilibrio, non c'è mai un risultato scontato, lo sappiamo ogni domenica, lo devono sapere tutti, noi lo sappiamo, è così. Sì, adesso abbiamo venerdì Milano, un'altra squadra che ha investito tanto, che ha fatto dei begli acquisti e quindi sarà un'altra partita molto difficile, ma noi dobbiamo andare sempre a caccia dei punti. L'ultima cosa, alla fine della trezza sconfitte il tuo allenatore a nostra domanda sugli obiettivi della Callipo ha parlato di playoff, tu concordi? Sì, noi ci siamo già arrivati l'anno scorso, quindi l'obiettivo è quello di confermare alla fine del giorno di ritorno il playoff, quindi speriamo di riuscire ad arrivarci e stiamo lavorando per questo, stiamo cercando di crescere in vista di questo obiettivo. Grazie.